Utilizzi molti prodotti Google? Gmail, Maps, YouTube, Google Documenti? Non ti piacerebbe avere a disposizione una pagina in cui vedere un riepilogo di ciascun prodotto Google che utilizzi? Grazie a Google Dashboard, ora è possibile. Google Dashboard ti permette di rispondere alla domanda Quali dati conserva Google in relazione al mio account? Questa pagina presenta un riepilogo dei dati relativi a ciascun prodotto e attraverso link diretti ti consente di controllare facilmente le tue impostazioni personali. Per visualizzare Google Dashboard accedi al tuo account Google con nome utente e password. Quindi vai al menu Impostazioni e seleziona Impostazioni account Google. Nella pagina del tuo account noterai il link Dashboard. Visualizza i dati memorizzati in questo account. Facendo clic sul link verrà visualizzata una seconda pagina di accesso. Per ragioni di sicurezza, dovrai inserire nuovamente la tua password prima di vedere il riepilogo di dati associati al tuo account Google. Una volta confermata la password, vedrai la tua Dashboard organizzata in base ai prodotti che utilizzi. La Dashboard mostra i dati associati al tuo account Google, vale a dire soltanto le informazioni che condividi con noi quando sei connesso al tuo account. Vediamo come funziona la Dashboard. Ad esempio, Gmail. La Dashboard mostra quanti messaggi hai inviato e a quante chat hai partecipato. Guarda com'è facile gestire le tue impostazioni personali di Gmail. Ad esempio, se fai clic su gestisci cronologia chat, puoi accedere direttamente alla pagina con le impostazioni personali della cronologia chat e modificare l'opzione Salva cronologia chat in Non salvare mai la cronologia chat. Tutto a partire da una singola pagina. Vediamo un altro esempio con YouTube. Per questo prodotto, la Dashboard mostra i dati relativi al tuo profilo, come nome utente, sesso ed età, oltre ai tuoi playlist e video preferiti. Tutti i dati presenti nella Dashboard sono considerati privati e visualizzabili soltanto da te, a meno che non siano indicati dall'icona che ne indica la condivisione. Sappiamo quanto sia importante per te avere il controllo dei tuoi dati in un'unica pagina ed è per questo che abbiamo creato Google Dashboard. Dashboard ti offre maggiore trasparenza e controllo, grazie alla possibilità di eliminare i dati, modificare le impostazioni e controllare in modo ancora più semplice la tua esperienza utente. Cosa aspetti? Prova subito Google Dashboard.